con mister allegretti al termine del pareggio fra Clevense e crema allora come giudichi questo punto ma per com'è andata bene perché eravamo sotto da discutere il primo tempo ancora con troppa paura con troppo timorosi perché poi alla fine non se c'è la svolta tra alla fine del primo tempo sull'atteggiamento è questa la cosa che più dispiace perché ci dobbiamo levare le paure altrimenti non è una questione di modulo di interpreti erano gli stessi però è cambiato totalmente l'atteggiamento ed è un errore che per l'ennesima volta mi ha commesso. Cosa ha fatto scattare questo cambiamento appunto tra il primo e il secondo tempo non so hai detto qualcosa di particolare ai ragazzi naturalmente trovarsi sotto nel primo tempo non faceva contento a nessuno perché nel secondo tempo hai visto proprio una clevense che se fosse partita così staremo già dall'inizio staremo parlando di un altro risultato ma sì di sicuro cos'è scattato è scattato la la spensieratezza e siamo sotto dobbiamo recuperare però lo stesso atteggiamento bisogna averlo anche sullo 0 a 0 se si vogliono vincere le partite poi possiamo recriminare i due gol annullati probabilmente un rigore ma non è su quello è sull'atteggiamento che è una cosa che appunto per l'ennesima volta abbiamo sbagliato quindi al di là degli episodi è proprio una questione nostra sulla quale stiamo lavorando evidentemente ancora non non abbiamo quella quella capacità di entrare in campo spensierati perché poi dopo vedendo un secondo tempo come quello che abbiamo fatto vorremmo tutti vedere una squadra così che attacca che non ha paura perciò solo questo tra le occasioni anche quella di guidoni con il miracolo delle portiere che veramente avrebbe chiuso comunque una partita dove per quello appunto che dicevi che ha dimostrato la crivenza e tre punti ci potevano stare ma sì secondo tempo hanno hanno spinto tanto hanno dato tutto quello che avevano però appunto io devo lavorare sul fatto che il primo tempo non è stato così ho sentito la gente che anche se è infiammata secondo tempo ma è giusto così noi dobbiamo trascinare dare ad esempio la dimostrazione che vogliamo portare a casa risultato perché poi dopo le persone lo vedono noi dentro il campo ci rendiamo conto se invece si ha sempre un atteggiamento rinunciatario si aspetta con con la paura di non prenderlo poi mancabilmente in un'occasione si prende perciò c'è da lavorare lo ripeterò sempre c'è c'è da lavorare in qualsiasi caso e e lo dobbiamo fare partendo da questo secondo tempo rivedendo la differenza rispetto al primo e e la speranza è quella di partire così già da settimana prossima